Con la messa per la Domenica delle Palme partiranno domani, anche nella Diocesi di Como, le celebrazioni della Settimana Santa, che culmineranno domenica prossima 20 aprile con la ricorrenza della Pasqua. Sette giorni importanti per i fedeli lariani, particolarmente legati ad alcune tradizioni, come il bacio del crocifisso del miracolo nella Basilica di Viale Varese, venerato dai comaschi fin dal XVI secolo. La croce verrà esposta a martedì alle 15 e sarà possibile mettersi in fila per il bacio dalle 6.30 di mercoledì fino alle 13.15 di venerdì 18. Quindi il crocifisso verrà portato in processione alle 15 per la Via Crucis del Venerdì Santo, lungo le vie della città, con benedizione del lago. La Via Crucis dei Giovani, invece, si svolgerà lunedì 14 aprile, con partenza alle 20.30 dal Santuario del Santissimo Crocifisso e arriva in Duomo e sarà presieduta da Monsignor Diego Coletti. Sempre in cattedrale, il Vescovo di Como celebrerà giovedì sera la Messa nella Cena del Signore e la Passione alle 20.30 di venerdì santo. Verrà celebrata, a partire dalle 21 di sabato prossimo, invece, la Veglia Pasquale, mentre il Pontificale con il Vescovo sarà domenica 20 aprile alle 10.30 in Duomo. Non solo appuntamenti religiosi, però, nei prossimi giorni. Dalla metà della prossima settimana, il Viale del Mercato sarà animato dalle bancarelle della Fiera di Pasqua, in programma da giovedì a lunedì 21 aprile in Viale Varese. Negli stessi giorni saranno presenti, in Viale Battisti e Viale Cattaneo, anche gli ambulanti del mercato, mercerie. Dal Sacro al Profano, dunque, per una settimana, la città sarà presa d'assalto da comaschi e turisti e scatterà inevitabilmente la caccia al parcheggio. A tal proposito, il sindaco di Como, Mario Lucini, ha annunciato un accordo con l'ospedale Valduce per l'utilizzo nel weekend di 80 posti all'interno del parcheggio Dipendenti e con il Collegio Gallio per avere a disposizione un centinaio di posti in piazza Cacciatori delle Alpi e in via Barelli. La sperimentazione inizierà nel periodo di Pasqua, quando i parcheggi di Viale Varese saranno occupati dalle bancarelle. Grazie. 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 Grazie.